Musica La base confluisce nel Pisdaz, l'EDA è il capogruppo in regione, i prossimi appuntamenti elettorali sarà presente il solo simbolo sardista. Il Lido Iride di Platamona rinasce dalle macerie con una grande festa in attesa che si completino i lavori di ristrutturazione entro il 2020. Portoferro e Portopalmas si riconfermano destinazioni balneari che rispettano criteri di gestione sostenibile, i Satell e le Bandiere Blu. TG12 edizione del sabato ben trovati, partiamo con la politica, lo avete sentito dai titoli del nostro sommario, la base confluisce nel Pisdaz. Gaetano Ledda, esponente del movimento politico guidato dal sindaco di Ollolai e Fisio Arbau, è il capogruppo in consiglio regionale che vede insieme eletti di entrambi i partiti. A breve il cambio di denominazione e ai prossimi appuntamenti elettorali sarà presente il solo simbolo sardista. Sentiamo Luca Fodai. Il movimento politico la base confluisce nel partito sardo d'azione. Ai prossimi appuntamenti elettorali sarà così presente non più con il proprio simbolo, ma sotto quello dei quattro modi. La settimana scorsa l'adesione al Pisdaz è stata formalizzata del fronte al Consiglio nazionale sardista. Un anno fa in consiglio regionale il rappresentante della base Gaetano Ledda aveva lasciato il centro-sinistra passando all'opposizione ed era entrato nel gruppo sardista di cui poi è diventato il presidente. Il gruppo consigliare fino ad oggi si chiama Pisdaz la base. Adesso la settimana prossima faremo gruppo unico e lo chiameremo Pisdaz. Il proprio gruppo di consiglio regionale entra di diritto in base allo statuto nel Consiglio nazionale del Pisdaz. E i rapporti con la Lega? Non nascondiamo che c'è un rapporto con la Lega, qualcuno non è contento. Purtroppo in una famiglia si può fare delle scelte, ci vuole coraggio più a decidere che a non decidere. Noi abbiamo deciso la strada migliore perché ci porti a risultati concreti, a risultati ottimi in politica. Mi auguro che il tempo ci dia ragione, che questi si ricredano e tornino sui loro passi. La base che fa capo al sindaco di Orlai e Fisio Arbau a Sassari ha la sede a Predanieta. Quali sono le priorità per la Sardegna? A me piacerebbe iniziare a parlare anche di zona franca. Salvini ha preso impegno, ha detto che iniziamo a parlare di zona franca per la Sardegna, vediamo. Comunque i temi sono tanti, sanità, agricoltura, trasporti, turismo, sono queste cose che sono di carattere primario a livello regionale. Noi portiamo avanti questi temi nel migliore dei modi. Il Consiglio regionale si sta discutendo la nuova legge urbanistica. Uscirà dalla Commissione a breve, vediamo, la vogliamo leggere, per adesso è nì. Ed ora la cronaca nella maxi operazione della Polizia in campo nazionale che ha portato l'arresto di 64 persone alla denuncia di altre 60 di diverse nazionalità. Sono stati coinvolti anche due sassaresi di 26 e 33 anni per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. I due soggetti sono stati bloccati in due distinte operazioni. Il primo è stato fermato nel centro storico per un controllo e durante la perquisizione personale è stato trovato in possesso di 4 grammi di cocaina e di 120 grammi di marijuana. Nel secondo arresto sono stati rinvenuti 55 grammi di cocaina nascosti negli slip. Lasciamo la cronaca. I lavori nella struttura abbandonata da anni si concluderanno nel 2020, ma ieri è stata inaugurata la stagione del rinato Lido Iride di Platamona con una grande festa. Sandra Sanna. Ritornare ai fasti di un tempo restituendo ai sassaresi la loro spiaggia rinasce così dalle rovine Lido Iride con un'offerta alla portata di tutte le tasche. Questo l'intento di Pierpaolo Cermelli, l'imprenditore di Porto Torres, che si è giudicato l'appalto per restituire a nuova vita il complesso balneare che negli anni 60 era un punto di riferimento per la bella vita, non solo della provincia ma di tutta la Sardegna, con gli artisti più in voga nell'epoca. Ieri l'inaugurazione dello stabilimento ha registrato il tutto esaurito, una grande festa con un concerto e animazione, e intorno tanti tavoli e ombrelloni che hanno attirato un considerevole pubblico e perfino le forze dell'ordine per controllare che tutto si svolgesse nel rispetto delle regole. L'imprenditore che ha raccolto la scommessa di ridare nuova linfa all'interale di Platamona è colui che da anni gestisce la maggior parte dei centri di accoglienza dei migranti come il Pime di Latte Dolce e il Toluca, a pochi passi dalle rovine dell'Ido Iride, ricoperte per l'occasione da grandi teli bianchi in attesa di ultimare i lavori di ristrutturazione previsti entro il 2020, che vedranno impegnati non meno di una sessantina di lavoratori, tramuratori, carpentieri e personale dello staff. Intanto ieri, all'ombra dello storico stabile, un grande palco con artisti vari che hanno intrattenuto per tutta la sera centinaia di persone, testimoni di una rinascita di un luogo da troppi anni abbandonato e che potrebbe ritornare ai fasti di un tempo lasciando alle spalle anni di incuria e abbandono. Restiamo a Platamona, sarebbe dovuto partire da domani il presidio di guardia medica turistica per il litorale di Platamona a garantire l'assistenza dei bagnanti nelle spiagge d'assorso a Porto Torres, ma il servizio non è stato istituito. Una situazione gravissima per il vicepresidente del Consiglio regionale Antonello Peru, una follia, rimarca l'esponente di Forza Italia, che in 23 km di spiaggia non ci sia neppure un medico. Abbiamo già evidenziato le criticità, prosegue Peru, ma la TS non si è attrezzata per dotare l'impianto del personale sanitario. Una discriminazione inaccettabile, visto che nel resto della Sardegna il servizio sarà avviato dal 1 luglio. Le nostre coste diventano così ad alto rischio perché in caso di malore i bagnanti sarebbero costretti a percorrere diversi chilometri verso le guardie mediche territoriali di Sassari o di Sorso. E questa dunque la denuncia del vicepresidente del Consiglio regionale Antonello Peru. Cambiamo argomento, ci spostiamo a Valledoria. Un'ordinanza del sindaco ordina i parcheggi a pagamento in centro. Insorgono i residenti che firmano una petizione per chiedere la revoca del provvedimento che partirà dal 1 luglio. Sentiamo. Dal 1 luglio parcheggio a pagamento nel centro di Valledoria, non solo per il periodo estivo ma per tutto l'anno. Una decisione del Consiglio comunale che non ha incontrato il favore dei commercianti che hanno indetto una petizione contro il provvedimento firmato dal sindaco invitando i cittadini a siglare il documento al quale possono aderire anche i non residenti. Da quando è partita la protesta sono ormai centinaia le firme raccolte dagli esercenti nei vari negozi. Nel frattempo nelle spiagge di Valledoria fioccano le multe per chi non utilizza i perchimetri, soprattutto i danni dei pochissimi turisti che in questi giorni stanno iniziando a defluire nel centro turistico. I commercianti lamentano il fatto che il primo cittadino, Paolo Spezziga, nel suo programma elettorale aveva promesso di eliminare tutti i parcheggi a pagamento, anche quelli nelle zone di mare, raccogliendo il 35% dei consensi. Ma oggi gli abitanti di Valledoria chiedono che l'amministrazione comunale riveda le sue posizioni alla luce della petizione che ormai centinaia di cittadini stanno firmando per esprimere il loro dissenso. E ora ci spostiamo a Stintino, sanzioni per privati e ristoranti con lo scorretto conferimento dei rifiuti a Stintino. 35 le sanzioni effettuate dalla Polizia Locale. Ci racconta tutto Valeria Secchi. Un totale di 35 sanzioni per importi che variano tra i 100 e i 400 euro. È il risultato dell'attività di prevenzione e controllo avviata dalla Polizia Municipale del Comune di Stintino che nella settimana appena trascorsa ha intensificato il monitoraggio contro l'abbandono e l'errato conferimento di rifiuti sul territorio comunale. Le sanzioni sono state elevate nei confronti di coloro che, nonostante le raccomandazioni, effettuano in modo scorretto la differenziata che conferiscono i rifiuti nelle isole ecologiche, in particolare nella nuova lessita sulla strada della Pelosa. Quest'ultima è riservata alla raccolta dei rifiuti prodotti nell'arco della giornata da chi frequenta la spiaggia. La maggior parte delle sanzioni, afferma il sindaco Antonio Diana, sono state fatte a chi, cittadino proprietario di casa nel nostro comune, invece di fare la raccolta differenziata a casa, decide di portare i rifiuti nelle isole ecologiche. Alla Pelosa, ad esempio, abbiamo fatto circa 20 sanzioni. Quest'azione, conclude il sindaco, sarà accompagnata da un'attività di informazione e sensibilizzazione nella quale poi se ne aggiungeranno di nuove. Oltre ai privati cittadini, sanzionati anche due ristoranti. Ed ora parliamo di ambiente. Per il terzo anno consecutivo, le bandiere blu alla spiaggia, simbolo di natura incontaminata Portoferro, e per la seconda volta Porto Palmas. Le due spiagge del comune di Sassari si riconfermano tra le destinazioni turistiche balneari che rispettano criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio. Sono state issate a Portoferro e Porto Palmas le spiagge del comune di Sassari le bandiere blu, riconoscimento internazionale che è espressione di una politica di gestione eco-orientata. Portoferro può vantare la bandiera per il terzo anno consecutivo, mentre Porto Palmas si riconferma per il secondo anno. Il riconoscimento internazionale, istituito nel 1987 anno europeo dell'ambiente, viene assegnato ogni anno in 49 paesi. Inizialmente solo europei, più recentemente anche extra-europei, con il supporto alla partecipazione delle due agenzie dell'ONU, il Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente e l'Organizzazione Mondiale del Turismo, con cui la FE ha sottoscritto un protocollo di partnership globale, riconosciuta dall'UNESCO. Bandiera Blu è un eco-label volontario assegnato alle località turistiche balneari che rispettano criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio. L'obiettivo principale di questo programma è quello di indirizzare la politica di gestione locale di numerose località rivierasche verso un processo di sostenibilità ambientale. Si tratta di spiagge con acque di balneazione eccellenti, commenta l'assessore alle politiche agroambientali e vice-sindaco di Sasseri Fabio Pinna, dove sono garantite la conservazione e la biodiversità degli ecosistemi marini e la pulizia della spiaggia, un'area costiera da preservare, una risorsa preziosa da valorizzare dal punto di vista turistico e ambientale. E siamo alla pagina di Cultura, la violenza assistita da fenomeno a reato. Il titolo del libro scritto da Giacomo Crovetti, avvocato e Cristiano De Palmas, psicologo, è dedicato alla violenza in diretta sui minori. Ieri la presentazione del volume. Noi c'eravamo, sentiamo. La violenza assistita da fenomeno a reato è il libro di Giacomo Crovetti e Cristiano De Palmas, dedicato a un tema per molti ancora poco conosciuto e in gran parte da esplorare, soprattutto sul piano giuridico. Eppure di violenza assistita si sente parlare spesso. Giornali, web e tv riportano a situazioni di minori spettatori di forme di maltrattamento espresso attraverso atti di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale ed economica, su figure di riferimento o su altre affettivamente significative, adulte o minori. Si tratta di una violenza indiretta, non subita in prima persona, vada a familiari, generalmente la madre o fratelli e sorelle, o anche a danno di animali domestici, come spiega il coordinamento italiano servizi contro il maltrattamento e l'abuso dell'infanzia. Un fenomeno la violenza assistita non considerato come reato autonomo. Giacomo Crovetti, avvocato e Cristiano De Palmas, psicologo e docente nel corso di scienze umane e psicopedagogiche fondamentali ad Università di Sassari, propongono così un libro che vuole essere introduttivo e divulgativo e che parte dalle definizioni date alla violenza assistita per giungere a un'ipotesi di rilevanza penale. Ieri il volume è stato presentato durante un convegno che si è svolto nell'aula magna della Facoltà di Medicina dell'Università di Sassari, presenti gli autori. Sono inoltre intervenuti Alessandra Nivoli, della Clinica di Psichiatria della U, è il referente del Centro di Vittimologia, e Liliana Loretto, direttore della Clinica Psichiatrica. L'evento è stato organizzato dal Centro di Vittimologia di San Camillo. La prefazione del libro è stata scritta dalla giornalista del Corriere della Sera, Luigi Offeddu, mentre le conclusioni da Fabio Roia, magistrato del Tribunale di Milano. Ci fermiamo ora per un breve break pubblicitario, ritorniamo tra pochissimo con la pagina sportiva. Restate con noi. L'evento è stato presentato dal Centro di Vittimologia di San Camillo. Torniamo in studio con la pagina sportiva. Il calcio in primo piano si è svolta ieri una conferenza stampa dove si è parlato di mercato, del futuro ancora in rosso-blu, dell'insostituibile bandiera del calcio, Torresino-Tore-Pinna. Sentiamo Cesare Donati. Una conferenza stampa a tutto tondo, quella che si è svolta ieri mattina nella sala stampa dello stadio Vanisanna. Al centro della scena, affiancato da mister Tortora e dal presidente Secchi, Tore-Pinna dichiara Resto alla Torres come terzo portiere perché la squadra, come è giusto che sia, dovrà dare spazio ai fuori quota necessari in questa categoria e nel mentre la società mi dà la possibilità di studiare per un futuro da preparatore dei portieri. Mi allenerò, starò vicino alla squadra, aiuterò un mister Bobo Gaspan nel seguire i giovani che arriveranno, cercherò di far capire a chi arriva alla Torres quale deve essere l'atteggiamento giusto, sudare la maglia, sempre. Un ruolo guadagnato sul campo è che continuerà a esercitare con la consueta grinta. Tore è uno di noi, le parole del presidente Secchi e la Torres potrà contare ancora sul suo contributo di esperienza e motivazionale. Nel frattempo la società lo sosterrà per la sua carriera di preparatore dei portieri, con tutto ciò che servirà per acquisire i titoli necessari. Tra gli argomenti della conferenza è inevitabile anche il riferimento al mercato rosso-blu. Stiamo lavorando per una squadra competitiva, dichiara mister Tortora, e per fare questo è necessario fare delle scelte tecniche sulla base di una mia idea condivisa con la dirigenza. Mettiamo delle basi e lavoriamo per il presente e il futuro. Dopo l'acquisto dell'attaccante Padovani, in queste ore firmano per la prossima stagione anche il difensore Andrea Peana, lo scorso anno in Lega Pro con l'Arzachena, e il centrocampista classe 98 Federico Di Paolo, stella e capitano della nazionale dilettanti Under 17-18. Non sono stati confermati invece il difensore Roberto Merenda, il centrocampista Francesco Mannoni e l'attaccante argentino Lionel Spinola. Stiamo lavorando per il ritiro che ci piacerebbe fare a Tempio, osserva il presidente Secchi, dove abbiamo avuto già ampia disponibilità. Per chiudere, il ringraziamento di Tore Pinna alla società rosso-blu e ai tifosi. Mi sono stati sempre tutti vicini, chiosa Pinna, e li ringrazio per questo. L'opportunità che mi è stata offerta mi riempie di orgoglio e mi dà fiducia per il futuro mio e della Torres. Finisce qua l'edizione del sabato del nostro telegiornale, non ci sono aggiornamenti dell'ultimo, ora io mi fermo qui, vi ricordo che potrete rivedere questo TG sul nostro sito, canale12.it, e l'intera nostra programmazione dei vostri smartphone o tablet attraverso wifi.tv. Inoltre, se siete in possesso di un decoder Sky, ci trovate al canale 5012, potete seguirci anche sulle nostre pagine social, Facebook, Instagram, YouTube e Twitter. L'appuntamento con l'informazione è domani, con la cronaca della settimana. L'informazione settimanale torna invece lunedì, come sempre le restate con il rullo informativo e TG all'E14. Io vi ringrazio per averci seguito, vi auguro un buon proseguimento di giornata e un buon fine settimana. Arrivederci.